La riduzione delle tasse, si discute se sia giusto o no togliere l'Imu, si discute se gli 80 euro abbiano funzionato, si discute se gli incentivi sul costo del lavoro debbano essere confermati, se la riduzione dell'IRAP sia manovra elettorale o no. Tutte discussioni del tutto legittime, ma sta lì un dato di fatto. Finalmente le tasse hanno iniziato ad andare giù anziché su.